la più nobile specie di bellezza è quella che non trascina a un tratto che non scatena assalti tempestosi e inebrianti la tale bellezza suscita facilmente nausea ma che si insinua lentamente che quasi inavvertitamente si porta via con sé e che un giorno ci si ritrova davanti in sogno ma che alla fine dopo aver a lungo con modestia giacciuto nel nostro cuore si impossessa completamente di noi e ci riempie gli occhi di lacrime e il cuore di nostalgia grazie 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 grazie